Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto come Vlad l'Impalatore o Vlad Dracula, è stato un nobile, militare e politico rumeno, vissuto nel XV secolo. È stato Vivoda di Valacchia per tre volte, rispettivamente nel 1448, dal 1456 al 1462 e infine nel 1476. Vlad III nacque nel 1431 a Sigioara, in Transilvania, da Vlad II Dracul, un principe valacco al servizio dell'Impero Ottomano. Il suo nome patronimico, Drkulea, significa il figlio del Drago, un riferimento all'Ordine del Drago, un'organizzazione militare cristiana fondata dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Vlad III fu esiliato dai turchi nel 1442, dopo che suo padre fu assassinato. Visse in Moldavia e Ungheria per diversi anni, prima di tornare in Valacchia nel 1448. La sua prima reggenza fu breve e violenta. Vlad l'Impalatore fu sconfitto dai turchi nel 1448 e fu costretto a fuggire di nuovo. Tornò in Valacchia nel 1456, con l'aiuto dell'Ungheria. Questa volta, Vlad l'Impalatore governò con mano ferma e spietata. Vlad l'Impalatore era noto per la sua brutalità contro i suoi nemici. Impalò migliaia di persone, tra cui turchi, sassoni e persino alcuni dei suoi stessi sudditi. La sua spietata repressione del banditismo e della corruzione gli valse il soprannome di Impalatore. Vlad l'Impalatore fu anche un abile politico. Si alleò con l'Ungheria e la Polonia per combattere contro l'impero ottomano tuttavia. Le sue politiche aggressive gli attirarono l'ostilità dell'imperatore ottomano Maometto II. Nel 1462, Maometto II invase la Valacchia e sconfisse Vlad l'Impalatore. Vlad fu costretto a fuggire in Ungheria. Vlad l'Impalatore tornò in Valacchia nel 1476, con l'aiuto dell'Ungheria. Tuttavia, fu ucciso in battaglia dai turchi pochi mesi dopo. La morte di Vlad l'Impalatore pose fine alla sua spietata reggenza, ma la sua fama di sanguinario tiranno sopravvisse. Il suo nome è stato immortalato nella letteratura e nel cinema. In particolare nel romanzo di Bram Stoker Dracula la figura di Vlad l'Impalatore è ancora oggi oggetto di controversie. Alcuni lo considerano un eroe nazionale rumeno, mentre altri lo considerano un tiranno sanguinario. Indipendentemente dalla sua valutazione storica, Vlad l'Impalatore è una figura affascinante e complessa che ha lasciato un segno indelebile nella storia. Ecco alcuni dei fatti più importanti sulla vita di Vlad l'Impalatore. Nacque nel 1431 a Sigioara, in Transilvania. Era figlio di Vlad II Dracul, un principe valacco al servizio dell'impero ottomano. Il suo nome patronimico, D'Kulea, significa figlio del drago. Fu esiliato dai turchi nel 1442. Tornò in Valacchia nel 1448 e nel 1456. Fu noto per la sua brutalità contro i suoi nemici. Impalò migliaia di persone. Fu anche un abile politico. Fu ucciso in battaglia nel 1476. La sua figura è ancora oggi oggetto di controversie.